C'è tanto da fare in particolare per lo sviluppo, proprio ieri mattina ero a Roma e abbiamo fatto il comitato di indirizzo per il programma Restart che è la previsione del 4% degli importi destinati alla ricostruzione per dei programmi di sviluppo e di rilancio del territorio. Stiamo appunto ragionando anche con la regione per mettere a sistema tutti questi progetti perché non siano delle cellule a sé stanti ma facciano parte di un progetto unico per il rilancio turistico, imprenditoriale, di ricerca e sviluppo di questo territorio. La proroga non è sufficiente ma come avevamo già annunciato in precedenza sono state già avviate le interlocuzioni con il Parlamento europeo, con la Commissione europea anzi in questo caso. Stiamo aspettando il nuovo Parlamento europeo, la nuova Commissione europea per cercare di mettere una pezza agli errori fatti dai governi precedenti perché non c'è stata una parola quando la Commissione europea ha dichiarato il livello del de minimis a 200.000 anziché a 500.000 non c'è stata una sola parola da parte del governo italiano, anzi diciamo anche di più. C'è stato qualcuno, e queste le parole pesano, che qua in regione ha dichiarato pure la vittoria per aver ottenuto degli aiuti anche per i non danni, quasi a voler affermare una cosa che poi è stata oggetto dell'infrazione. Stiamo parlando anche di quello, quindi errori politici, errori fatti dal governo, regionali e nazionali di allora che oggi stiamo cercando di sistemare. Comunque ci stiamo lavorando, come avevo garantito a inizio anno, avevamo già avviato un'interlocuzione e ci stiamo già lavorando.